Residuato bellico rinvenuto nelle campagne di Favarella, minacciato dal vicino di casa, controlli della polizia sulle strade del Nisseno, comune è dibattito sulla scelta dei consiglieri Matta e Schirmenti. Defibrillatoria San Cataldo e interrogazione del consigliere Mangione. Bentrovati in questa edizione del nostro telegiornale. Residuato bellico rinvenuto nelle campagne di Favarella, chiesto l'intervento degli artificieri. Nelle ultime ore in Sicilia sono stati ritrovati due ordigni ribellici risalenti alla seconda guerra mondiale. Attualmente sono in corso i lavori di bonifica con l'ausilio degli artificieri. Il primo è stato individuato ieri sera ad Acate, lungo la strada provinciale 87, e dovrebbe trattarsi di un proiettile di mortaio inesploso. Con un'ordinanza del sindaco di Acate la zona è stata chiusa. La zona del ritrovamento non è distante dalla zona costiera dove nel luglio del 1943 sbarcarono gli alleati tra Scoglitti, Marina di Acate e Gela. Il secondo ordigno è stato ritrovato a Caltanissetta, incontrato a Favarella. A scoprirlo il proprietario di un campo che stava facendo lavori di aratura. Minacciato da un vicino di casa, un 50 anni si è rivolto alla Polizia di Stato. Il servizio. Momenti di tensione si sono verificati a Canicattì, in provincia di Agrigento. Il tutto, secondo quanto ricostruito, sarebbe accaduto per un parcheggio. In particolare, un uomo di 40 anni, per impedire che un 50enne posteggiasse la propria auto nei pressi della sua abitazione, lo avrebbe afferrato violentamente al braccio e minacciato di morte, impugnando un tubo di metallo con frasi come «ti ammazzo», «ti sparo in fronte». L'uomo di 50 anni, aggredito e minacciato, non sarebbe stata la prima volta, ha denunciato il vicino di casa alla Polizia di Stato di Canicattì, per l'ipotesi di reato di violenza privata. Querela che gli agenti hanno formalizzato e inoltrato alla Procura della Repubblica di Agrigento. Controlli sulle strade del Nisseno. La Polizia sequestra quattro veicoli. L'attenzione sulle strade della provincia nissena continua a essere costante, con la Polizia di Stato che ha sequestrato quattro auto. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del codice della strada da parte delle forze dell'ordine rimane centrale al fine di scongiurare incidenti e pericoli. In particolare, la Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nella provincia di Caltanissetta, lo scorso fine settimana ha accertato 39 violazioni del codice della strada e sequestrato quattro veicoli. Nello specifico, 12 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 9 per mancata copertura assicurativa della macchina, 5 per guida con patente scaduta, 7 per omesso uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato utilizzo del casco e 3 per altre sanzioni. Comune di Caltanissetta, dibattito aperto sulla scelta dei consiglieri Matta e Schirmenti, parlano Oscar Aiello della Lega e Marina Mancuso del Movimento 5 Stelle. Dopo la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle di Caltanissetta dei consiglieri comunali Schirmenti e Matta, è intervenuto il capogruppo della Lega, Oscar Aiello. Noi accogliamo con piacere i due consiglieri ex Movimento 5 Stelle all'interno dei banchi dell'opposizione, però non basta spostarsi da un partito, in questo caso dall'O5 Stelle all'opposizione, occorrono segnali di ravvedimento in modo tale che l'opposizione con i due nuovi consiglieri possa essere davvero incisiva, anche se ormai manca poco alla fine di questo mandato e occorre guardare invece alle prossime elezioni. Abbiamo ascoltato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marina Mancuso. Naturalmente siamo tutti dispiaciuti di questa decisione assunta dai colleghi, siamo amareggiati, ma nello stesso tempo non condividiamo assolutamente la decisione di transitare nel gruppo misto o in qualunque altra compagine politica. Noi abbiamo un preciso mandato che ci è stato conferito dai cittadini e nel momento in cui si dovessero creare contrasti, dissiti, che comunque nelle normali dinamiche di gruppo possono certamente sorgere, si fa di tutto per risolvere all'interno questi problemi e se non si riesce a risolverli, proprio come estrema razio, si danno le proprie dimissioni. Quindi noi riteniamo che il patto con gli elettori debba assolutamente portare verso una scelta coerente che è quella di lottare fino in fondo per poi eventualmente rinunciare laddove non ci siano le condizioni per poter risolvere l'eventuale contrasto. Con ciò quindi auguro sicuramente buon lavoro ai colleghi. Noi non abbiamo un programma per il futuro, l'unica cosa che vorremmo fare è continuare a lavorare sul programma che abbiamo contribuito a realizzarlo e esplorare l'amministrazione a fare gli interessi dei cittadini. E a chi ci dice di dare le dimissioni io dico che non le devono chiedere a noi le dimissioni ma a qualche assessore. Dimissioni che sono state chieste già da parecchio tempo e da più voci. Defibrillatori a San Cataldo. Interrogazione del consigliere Mangione al sindaco Comparato e al presidente Bonsignore. Il consigliere comunale del gruppo consigliere sancataldese Lista Civica Trecolombe Bartolo Mangione ha puntato l'attenzione sull'ubicazione cittadina dei defibrillatori attraverso un'interrogazione indirizzata al sindaco Giacchino Comparato e al presidente del consiglio comunale Romeo Bonsignore. Il consigliere infatti è venuto a conoscenza. Si legge che alcuni di detti strumenti, uno dei quali addirittura ubicato presso lo stadio comunale cittadino, potrebbero non risultare in perfetto stato d'uso e ciò eventualmente potrebbe determinare grave documento in termini di prevenzione e la diretta ed ottimale conservazione dello stato di salute dei nostri concittadini. Alcuni di detti strumenti, si legge ancora, di prevenzione e cura risultano essere collocati anche presso altre strutture nella diretta disponibilità dell'amministrazione comunale in indirizzo, prosegue. Aggiungendo poi successivamente, lo scrivente ha rilevato che alcuni di detti strumenti risultano essere collocati inoltre all'interno di strutture private non fruibili in caso di necessità. Chiede dunque attraverso risposta scritta se sempre la signoria vostra e o l'assessorato comunale e o gli uffici competenti, scrive il consigliere Mangione, sono a conoscenza di quanto odierne rappresentato e se hanno mai redatto una mappatura delle obbligazioni cittadine di tutti i defibrillatori esistenti in città con conoscenza diretta del loro stato d'uso. Sul tema interviene lo stesso primo cittadino stancataldese. Benvengano le interrogazioni, benvengano tutta l'attività d'impulso che il Consiglio Comunale fa. Benvengano poi in un argomento così importante perché i defibrillatori e la corretta gestione, la corretta manutenzione, il funzionamento dei defibrillatori sono importanti per tutta la città. Per cui un applauso al Consiglio Comunale che sempre ci stimola a compiere al meglio il nostro ruolo. Già da tempo noi abbiamo avviato un'attività per monitorare la presenza dei defibrillatori sul territorio e per verificarne il corretto funzionamento. Laddove questo non fosse abbiamo già preso in atto alcune iniziative per rimettere in sesto quello che era il progetto di città di San Cataldo e città cardioprotetta perché è importante ed è importante collaborare a tutta finché quei defibrillatori funzionino e che siano sempre pronti all'utilizzo immediato da parte di qualsiasi cittadino. Stabilizzare i lavoratori del reddito minimo delle province di Caltanissette ed Enna. Disegno di legge di Luisa Lantieri, vicepresidente dell'Assemblea regionale. Stabilizzare i circa mille lavoratori del reddito minimo nazionale delle province di Enna e Caltanissetta che dal 1998 svolgono mansioni precarie per gli enti locali. Questa la richiesta di Luisa Lantieri, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana che ha presentato un disegno di legge che interessa i lavoratori inizialmente chiamati a svolgere candieri di servizi con reddito minimo e successivamente rimasti a supporto delle necessità degli enti locali. Ormai, da oltre vent'anni, afferma la Lantieri, questi lavoratori rappresentano ormai una parte importante della macchina degli enti locali. Senza il loro apporto, molto probabilmente diversi comuni sarebbero costretti ad esternalizzare alcuni servizi fondamentali di base, come il portierato, le pulizie, le piccole manutenzioni e altri. Nonostante questo, inspiegabilmente questi lavoratori non hanno avuto accesso negli anni le procedure di stabilizzazione, che hanno interessato diverse categorie con contratti precari. La proposta della parlamentare di Forza Italia mira quindi ad ottenere che le amministrazioni comunali attivino le procedure e le modalità di stabilizzazione dei soggetti, che sono inseriti nell'elenco unico ad esaurimento che comprende questi lavoratori. Sono stata sempre accanto a questi lavoratori con diversi mandamenti e numerose battaglie in aula, ricorda Lantieri, per sottolineare il diritto alla dignità lavorativa anche per questa particolare categoria dei lavoratori, presente solo nelle province di Enna e Caltanissetta. Colonnine elettriche, intervento del segretario del circolo PD Libertà. Replica dell'assessore comunale Ettore Garozzo. Recentemente sono pervenute al circolo del PD Libertà diverse segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi con le colonnine di ricarica pubbliche. Alcune di esse non erano disponibili, altre avevano problemi tecnici che ne impedivano l'utilizzo, mentre in altri casi i tempi di attesa erano troppo lunghi. Abbiamo ascoltato il segretario del circolo Libertà Giancarlo Larocca e la replica dell'assessore in merito Ettore Garozzo. Abbiamo avuto segnalazioni degli utenti che utilizzano veicoli elettrici che ultimamente sempre più difficile gli veniva di trovare un punto di rifornimento, almeno elettrico, almeno per ciò che riguarda quelle fornite dal comune. Dopo ci sono quelle private che quelle funzionano benissimo, però quelle che funzionano per conto del comune ultimamente sono pochissime. Noi abbiamo fatto una ricognizione e su una quindicina di impostazioni elettriche soltanto due funzionano. Abbiamo subito attivato, in realtà erano già stati attivati gli uffici per verificare quale potesse essere il problema. Abbiamo, assieme all'ingegnere Dell'Utri e all'assessore Errando, ci siamo confrontati sul problema e abbiamo contattato la SIS, la quale ci ha detto che il problema è dovuto, il problema che peraltro si ripercuote su quattro colonnine di quelle presenti in città, è dovuto al malfunzionamento delle sim delle colonnine stesse, le quali non consentono il perfetto funzionamento delle stesse. Queste non sono sim comuni, ovviamente verranno sostituite, ci ha detto l'assessore, entro l'inizio della settimana entrante. Bilancio partecipativo, il progetto più votato, è stato proposto da un'associazione di promozione sociale. L'idea del talent show è quella che ha ottenuto più preferenze durante la votazione delle proposte progettuali da realizzare attraverso le somme a disposizione per il bilancio partecipativo 2022. L'associazione di promozione sociale sulle ali della musica, nata nel 2017, ha ottenuto infatti 222 voti con il progetto sulle ali del successo, nato da un'idea della Presidente insieme alla Vicepresidente Luigia Perricone e alla segretaria Laura Mosca, e che prevede oltre al talent che permetterà ai giovani talenti di esibirsi e dimostrare le proprie capacità artistiche nel campo della danza, canto moderno ed esecuzione strumentale, anche un concerto pianistico. È stato un riscontro positivo al di là di ogni aspettativa, devo dire. In buona sostanza è un talent, un talent al quale parteciperanno i ragazzi, anche i bambini, da 10 a 25 anni. Si divide in tre sezioni, canto, danza e esecuzioni strumentali. Può partecipare un esecutore solista come un gruppo, in qualsiasi formazione. Quindi faremo prima delle selezioni, poi faremo tre giornate, una per il campo, una per la strumenti. Dopodiché faremo una serata finale, alla quale parteciperanno i tre primi classificati di ogni sezione. Il primo di ogni sezione riceverà un premio in denaro e poi ci sarà un primo assoluto della serata intera. Tutto ciò sarà coronato da un concerto di un musicista, un pianista, Giuseppe Andaloro, il quale ci farà l'onore di partecipare al nostro progetto suonando, facendo un concerto. Devo dire che siamo state una squadra perché oltre alla nostra associazione ci ha collaborato il comitato di quartiere San Luca, perché andremo a fare lì le selezioni in qualche locale della nuova chiesa. Ci ha collaborato il liceo classico, dove il liceo classico sarà la sede per le serate sia per il concerto, per la serata di danza, di canta e quant'altro. Anche i nostri colleghi della scuola, perché nella nostra squadra ci sono tanti insegnanti che appartengono all'Istituto Comprensivo Don Milano e quindi siamo una forza anche in quel senso. Insomma è stato un bellissimo successo, siamo molto contenti e soddisfatti. Non è la prima volta che un progetto dell'associazione rientra tra quelli più votati. L'abbiamo vinto nel 2018 e abbiamo iniziato questo progetto Facciamo Musica nel 2021 perché c'è stato il Covid, del 21 al 22 e questo prevedeva l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie ai ragazzini che non frequentano un corso in dirizzo musicale. Ha avuto un grande successo, gli abbiamo dato degli strumenti in comodato d'uso, molti si sono appassionati, hanno continuato e questo era il nostro obiettivo. Poi abbiamo vinto il bilancio partecipativo del 2021 che ancora non abbiamo iniziato perché aspettiamo che ci diano l'ok per cominciare e questo si chiamava Piccole Note, questo progetto si chiama Piccole Note e prevede lo studio della musica presso le scuole elementari. Quindi una specie di Facciamo Musica ridotta per i bambini più piccoli. Ora quest'anno abbiamo voluto cambiare, abbiamo previsto questo talent però che ha anche delle finalità didattiche importanti. Caltacqua aderisce al sistema PagoPà, la piattaforma digitale nazionale che permette di scegliere come pagare tributi, imposte o rette verso la pubblica amministrazione e altri soggetti aderiscono servizi al cittadino. Caltacqua aderisce al sistema PagoPà, la piattaforma digitale nazionale che permette di scegliere come pagare tributi, imposte o rette verso la pubblica amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino. È un importante passo verso il futuro che va in direzione della semplificazione del dialogo con l'utenza nel segno di una maggiore efficienza dei rapporti, del risparmio di tempo e di carta. Caltacqua, il gestore del servizio idrico per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha infatti implementato i servizi della propria area online, adottando come ulteriore mezzo di pagamento il sistema PagoPà accessibile con pochi clic dal proprio cellulare. Così si eviteranno le file agli sportelli con evidenti benefici nella gestione quotidiana delle proprie attività. Da tempo, recita la nota del gestore, Caltacqua sta accompagnando la propria utenza lungo un virtuoso percorso di consapevolezza dei consumi e di lotta ad ogni forma di spreco. Chiunque può chiedere gratuitamente l'invio della fattura in formato digitale alla propria casella di posta elettronica senza ricevere più la copia cartacea. Uno strumento molto utile che si unisce agli altri, sempre gratuiti, a disposizione dell'utenza come la domiciliazione bancaria della fattura che evita problemi di scadenze e file agli sportelli. E infine un altro servizio molto utile, grazie al quale comunicando il proprio numero di telefono al gestore, si possono ricevere via sms in tempo reale informazioni su eventuali modifiche, ritardi o mancata effettuazione della distribuzione. Ieri Santa Messa nel ricordo della Beata Maria Cristina di Savoia, su iniziativa dell'omonimo convegno nisseno, nella chiesa di Sant'Anna al Testa Secca, nella celebrazione. Don Calogero Pane Pinto, dopo aver commentato i passi delle Sacre Scritture, ha ricordato alcuni momenti della vita della Beata. Alla Santa Messa hanno partecipato rappresentanti degli ordini dinastici di Casa Savoia, dell'ordine costantiniano di San Giorgio e delle guardie d'onore delle tombe del Panteon. La festa di San Giovanni Bosco al Sacro Cuore di Caltanissetta, massiccia partecipazione di devoti. Hanno partecipato numerosi fedeli ieri alla Santa Messa delle ore 18 nella parrocchia Sacro Cuore di Caltanissetta, dopo un momento dedicato ai ragazzi e le ragazze del catechismo nel primo pomeriggio. La festa di San Giovanni Bosco è stata scandita da una solenne celebrazione eucaristica, preseduta da Monsignor Salvatore Rumeo, vescovo eletto di noto. Uno degli ultimi appuntamenti per lui in qualità di parroco nella chiesa annessa a quell'oratorio salesiano, che in passato ha accolto tantissimi giovani della città. Dal 1 marzo rivestirà il ruolo di nuovo parroco Monsignor Onofrio Castelli, il quale continuerà anche a ricoprire l'incarico di Vicario Generale della Dioce Sinissena. Un giorno speciale perché abbiamo ricordato il santo dei giovani, San Giovanni Bosco, abbiamo ricordato la sua vita, la sua passione, il suo amore per le nuove generazioni e poi ho sempre vissuto questo giorno con grande dedizione, con grande trasporto perché questa è la casa di San Giovanni Bosco e tanti nisseni hanno vissuto la loro fangiullezza, la loro giovinezza in oratorio. Sicuramente è un giorno importante che porterò nel cuore perché porterò sicuramente nel mio animo e nella mia giornata terrena la città di Caltanissetta, così come la parrocchia Sacro Cuore e l'amore per la chiesa di Caltanissetta. Una celebrazione, quella in occasione della festa di San Giovanni Bosco che è stata vissuta anche dai parrocchiani con grande emozione, ai quali Monsignor Romeo rivolge un messaggio. Sicuramente non li lascio perché li porto con me nel cuore, continuerò a pregare per loro, pregherò con loro perché siamo nella chiesa di Cristo e la chiesa è una, di continuare a coltivare quel sogno di vivere in comunità perché la parrocchia è la loro casa e la loro famiglia e insieme devono costruire quel sogno che è nato tanti ma proprio tanti anni fa, il sogno del Cristo di essere una sola cosa e di crescere insieme nella fede. La storia di Sirano, il poeta spadaccino dal grande naso buffo burbero ma generoso e determinato a non cedere alle convenienze e ai compromessi, sarà sul palcoscenico del Teatro Margherita domenica 5 febbraio alle 18, seguita da un mattine per le scuole di giorno 6. La brillante commedia musicale, una delle opere teatrali più celebri e rappresentate, fa parte della sezione Famiglia Teatro della stagione teatrale e musicale Svelamenti, promossa dal comune di Caltanissetta, assessorato alla cultura. Ed è la band nissena dei Wallenau al Manzoni per un concerto durante il quale presenteranno il loro primo singolo. Mercoledì mattina alle 9 e mezza presso l'istituto scolastico Manzoni Juvara di Caltanissetta si è svolto il concerto di presentazione del primo singolo inedito dei Wallenau, band nissena che il prossimo 8 febbraio si esibirà a Sanremo per Casa Sanremo Live Box, durante il 73esimo festival della canzone italiana. Il concerto si è svolto nella palestra dell'istituto ed è stato replicato lo stesso giorno alle 11.15. Il gruppo ha presentato l'inedito Fairy Tales in uscita il 3 febbraio su tutte le piattaforme digitali, insieme ad altri brani contenuti nell'IP in lavorazione con etichetta discografica FM Wave di Manuel Scarano. Siamo prontissimi per la partenza a Sanremo, siamo molto emozionati, ci siamo preparati moltissimo per questo viaggio, diciamo che prima di arrivare a prendere questa decisione per noi è molto importante che è un grande traguardo, abbiamo suonato molto tempo insieme, ci siamo abbuffati anche a volte di legnate durante le prove, però ce l'abbiamo fatta, siamo rimasti compatti, decisi su quello che volevamo fare e dove vogliamo arrivare e noi sappiamo di farcela. Sanremo si avvicina e quella di oggi sarà la prova generale per quello che i ragazzi andranno a fare lì a Sanremo, è un'occasione fantastica per mettersi alla prova e per cercare il riscontro partendo dal loro mondo, cioè da quello dei ragazzi e della loro scuola. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui, vi lascio al metodo e alle informazioni di pubblica utilità. Buon proseguimento. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, possiamo notare dal punto di vista barico l'Europa divisa in due, con l'anticiclone che sarà ad ovest, proprio tra la penisola iberica, l'Inghilterra e la Francia, mentre più ad est, dalla Germania verso tutta l'Europa orientale, infiltrazioni di aria più umida e fredda da nord-nordovest. Nel dettaglio l'Italia quindi sarà una zona di mezzo tra l'alta pressione ad ovest, molto vicina sulla Spagna e correnti un po' più fredde e umide da nord. Nel dettaglio gli effetti pochi, qualche localizzato fenomeno solo sulla Sicilia, un contesto di variabilità, altrove stabilità e sole. Segnaliamo poi verso la serata qualche precipitazione sui rilievi altoatesini per un fronte nuvoloso che si addosserà proprio sull'Austria. Nel dettaglio la mappa dell'Italia, una bella giornata, ampia periodo del cielo, dicevamo su Basso Tirreno e la Sicilia un po' di variabilità, nuvolamenti regolari con qualche localizzato fenomeno sull'isola. Altrove sole e poi qualche fiocco di neve per quel fronte nuvoloso sull'Austria, i fiocchi di neve riferiti ai settori più settentrionali dell'Alto Adice. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Pantano, via Don Minzoni Servizio notturno, Eufrate, via Filippo Turati Servizio di Bratt canale Simb $30 Servizio di trasporto Servizio di Virgra Servizio di narrato